Bene, ecco la storia sociale, questo splendido teatro e cominceremo con un recupero. La prima produzione che vi presenteremo è la Gauthier Dance Company di Stoccarda con Duolay Gershin di Marco Gork. Ecco, un appunto su questa produzione doveva essere presentata a novembre, purtroppo annullata, ma ripresa nella stagione 21. Anche qui ringrazio Emanuele Maggi per la collaborazione, per il fatto che sia possibile anche per lui di vedere la sua stagione rappresentata appunto durante la stagione in danza 21. Blasphemy Rhapsody è la produzione a seguire al teatro sociale. È il mio greco, un nome molto conosciuto nella danza nazionale e internazionale con base ad Amsterdam, presenterà il suo lavoro qui al teatro sociale. Anche questa, lo dico con piacere, è una ripresa della produzione durante la stagione Danza 20 diretta da Emanuele Mase. Ecco, abbiamo dato fiducia agli artisti, abbiamo dato una promessa e abbiamo voluto mantenere il nostro rapporto con loro. Una danza innovativa, una danza diversa, una danza di impatto, una danza molto violenta direi, molto cruda. È quello che mi piace di Emanuele Mase, un personaggio che conosco da molti, molti anni, ancora ai tempi del mio periodo a Vienna. Sono felicissimo di rincontrare e presentarvi proprio qui al teatro sociale. È dedicato alla memoria il prossimo programma che vi presentiamo al teatro sociale, un personaggio unico, straordinario, che non ha smesso di sorprenderci durante tutta la sua carriera. Luciana Savignano, un nome enorme della danza mondiale, ci presenterà un lavoro Bolero, prigioniere di un amore. Bolero è stato forse il pezzo di Maurice Beja, che l'ha lanciata e l'ha fatta veramente conoscere a tutti i pubblici. Ed è tornata in punta dei piedi, si può dire, silenziosa, gracile come è, a presentare un suo passo, un suo passaggio al futuro. Ecco, donna di oggi, una ballerina di ieri, una ballerina di oggi. Lei ha detto spesso, ah ma perché devo prendere un premio alla carriera quando ha ancora così tanto da dire. Sarà amata dal pubblico di Trento, qui al sociale, e la vedremo in un'idea di Milena Azzullo, con una produzione organizzata da Pardova Danza. Ecco, l'ammireremo e sarà penso una serata anche molto commovente. Per la prossima produzione ci siamo spostati un po' più in là, per farvi incuriosire sulla danza mondiale. Ed è il Malpaso di Cuba, una compagnia contemporanea che, fondata nel 1912 e in pochissimi anni, è riuscita a veramente avere dei successi globali veramente inaspettati. A me interessava molto averli perché hanno un programma che presenta coreografie di Oha Naharin e Macek e del loro direttore artistico Osnel Delgado. Ed è questo, secondo me, importante in tutta la nostra rassegna che vi presenteremo avere un rapporto con voi a 360 gradi. Ecco, non vorremmo avere soltanto un tipo di danza, ma tante danze. Ecco, farvi vedere quanto c'è e quanto è possibile vedere sulle vostre scene. La compagnia Malpaso è in intorno europea, quindi è molto difficile dell'avere, quindi siamo stati fortunati a trovare un periodo per il quale potremo averli qui con noi. Felici di introdurvi la prossima produzione, una compagnia potremmo dire leggendaria che ha fatto, che ha lanciato moltissimo in Italia la danza moderna ed è il Balletto di Toscana. Nel nuovo Balletto di Toscana sarà presentata qui al Teatro Sociale in Prima Mondiale Bayadera. Una produzione che appartiene anche al repertorio della stagione in danza 20, diretta Emanuele Masi, che, esatto, felicissimo, come ho detto, di avere la possibilità a dare a voi la possibilità di una Prima Mondiale qui al Teatro Sociale con Bayadera. La coreografia di Michele Di Stefano è un'interessante tentativa, un'interessante ricerca di prendere uno dei balletti più classici della tradizione del balletto, appunto, e presentarlo in una chiave moderna e innovativa. Ecco, la prossima produzione è qualcosa che non potete perdere. Il famoso Gandini Jongler, sono ballerini giocolieri, una compagnia basata in Inghilterra, e hanno questa capacità appunto di ballare e jonglare, quindi giocolieri, in uno spettacolo molto 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 bello, anche per il pubblico più giovane. Ed è un lavoro fatto da Sean Gandini ed è una, uso la parola parodia, però non vorrei che fosse presa in senso negativo, di Pina Bausch e del suo Dance Theatre Fupert, è accato in questa chiave, con molto umore e molta sensibilità, veramente unicità nella sua espressione, questo gioco, questi giocolieri che ballano un pezzo teatrale dedicato alla grandissima Pina Bausch. Veramente questo ve lo posso raccomandare in assoluto. Continua il nostro viaggio nella danza e allora affrontiamo ora la cultura mediterranea. QBV con Le Nuit de Babà presenta un pezzo molto forte, molto 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 quasi aggressivo della danza nata dalla tradizione, dal folklore se vogliamo, di una parte delle popolazioni del Mediterraneo, nord africane, spagnole, sud italiane. Questa è un po' la sua ispirazione che ha preso portando questo pezzo molto molto fisico, molto atletico, molto passionale. Quindi abbiamo una possibilità di confrontarci proprio con ballerini che vengono dalle culture più diverse, dalle musiche più interessanti, dai monumenti coreografici più semplici, allo stesso tempo più complicati, più estremi, più particolari. Ballati dagli splendidi ballerini avremo la possibilità di entrare in mondi diversi, quasi misteriosi, di una cultura che ci ha abbandonato da molto tempo, ma che possiamo rivivere qui, grazie alla danza. La panoramica continua. Abbiamo presentato produzioni dalle più parti diverse del mondo, ma torniamo agli italiani che hanno lasciato l'Italia per il loro lavoro, per la loro passione, per avere magari il modo di tornare meglio di prima. Ed è questo il caso della prossima produzione che vi presentiamo, sono Les Italianes e l'Opera de Paris. Alessio Carbone ha avuto l'idea di unire un gruppo, che al momento sono dieci ballerini, tutti dell'Opera di Parigi, con i quali presenterà una serata di gala dedicata alla grande danza. Abbiamo i più grandi nomi della coreografia mondiale, da Nouril, Milpied, Priso Cage e tanti altri, in due serate diverse, con due programmi diversi. Ci veramente affascineranno e vedere i nostri giovani entrati nelle scuole dell'Opera di Parigi, che hanno portato quel tocco in più forse alla compagnia stessa di Parigi. Forse loro hanno guadagnato più dei nostri ragazzi, perché in fondo lo sappiamo che la tradizione degli italiani in Francia per la danza è molto lunga. Quindi due serate con gli italiani dell'Opera de Paris, diretti da Alessio Carbone, ci daranno per la prima fase del programma della stagione 21, che andrà fino a fine maggio, e concluderanno questa serie con la grande danza qui al Teatro Sociale. Grazie.